Dio è padre nella redenzione. Penso che già il titolo sia molto chiaro, titolo di questo nostro incontro, perché se Dio non avesse preso l'iniziativa della redenzione, non ci sarebbe stata e di conseguenza per noi non ci sarebbe stata salvezza. Invece Dio, prima che noi lasciassimo la situazione di peccato, prende l'iniziativa della redenzione e manda il suo figlio a morire per noi. Che bello, quanta misericordia, quant'amore che Dio ha versato per noi. Lascia il suo figlio venire sulla terra, uomo tra gli uomini, sofferente tra i sofferenti per salvare ciascuno di noi. Se noi prendiamo la vita di Bernadette, la fanciulla che vide la Madonna, possiamo notare che lei non si stimava affatto di avere la visione della Madonna. Era contenta di andare al catechismo, il pomeriggio, di fare la prima comunione, mamma mia quanta gioia per la prima comunione. Ma avere la visita della Madonna, questo proprio no. Però lei è stata all'altezza della situazione. Nell'ultimi tempi della vita lei fa delle riflessioni. Cioè vede i suoi privilegi, le sue realizzazioni, le sue meditazioni, niente di tutto questo. Vede la sua povertà intellettuale, la povertà spirituale. Si vede una fanciulla bersagliata dalle autorità, bersagliata dal popolo, rigettata. Nulla di buono. Soltanto sofferenze fisiche, malate, malata, sofferenze fisiche, sofferenze interiori. E lei cosa dice? Come si rivolge alla Madonna che gli faceva visita? Cosa diceva al suo Gesù? Grazie, oh Signore. Io ti debbo ringraziare in eterno perché nel mio piccolo tu fai sì che io possa aiutarti a redimere i miei fratelli di esilio. Grazie, oh Signore. Ecco allora, la redenzione è un dono di Dio. Ma quello che è più bello e specifico è considerare che Dio prende una creatura umana e la eleva all'altezza del suo figlio Gesù che scende dal cielo per redimere l'uomo. E l'uomo si innalza per l'amore di Dio, piano piano, piano piano, si mette al livello del figlio suo perché deve aiutare Gesù a redimere le anime. Il Signore ci chiama a partecipare alla passione del Cristo per prendere parte alla sua risurrezione. Le varie sofferenze possono crearci delle prove d'amore di un padre che ci conosce e ci corregge come il papà che vuole bene al figlio e perché vuole bene al figlio lo fa anche soffrire perché lo rimprovera e se è necessario anche un piccolo castigo. Perché il papà è cattivo? No, perché il papà ama il figlio e vuole che il figlio sia educato, che cresca con ideali umani e spirituali. Siamo tutti chiamati ad essere collaboratori di Cristo Redentore, non perché ha bisogno della creatura, questo è un concetto fondamentale. Gesù non ha bisogno di noi ma vuole farci partecipare per darci importanza, cioè per arricchirci della sua redenzione e quindi essere suoi collaboratori. Cioè la salvezza di molti, di tanti uomini dipende anche dalle preghiere e mortificazione di noi semplici cristiani. Che bello, che capolavoro da parte di Dio. Anche in Padre Pio possiamo vedere che mediante le sue sofferenze partecipa alla redenzione di Cristo. Persecuzione, calunnie, incursione diaboliche, sollecitazioni diaboliche, giudizi negative della scienza medica, giudizi negative dei suoi superiori, anche dei superiori ecclesiastici. E Padre Pio che cosa dirà? Egli scriverà in una sua lettera al Padre Confessore, sopra di me si è confermato il furore dell'Altissimo, cioè il furore di Dio. Mi trovo solo a lottare e a piangere, sia di notte che di giorno. Che la nostra vita sia un tormento, sia un tormento che perché noi possiamo aiutare Gesù a salvare le anime.